La MIG Mostra Internazionale del Gelato è saltata, ma un'occasione per fare il punto sulle evoluzioni del settore ci sarà comunque. A Longarone, al posto del tradizionale evento su quattro giorni, tra l'1 e il 2 dicembre, ci sarà una due giorni dedicata al forum della gelateria. Niente formula tradizionale quindi, ma un momento in cui gli addetti del settore si confronteranno sulle modalità per ampliare l'offerta delle gelaterie, con prodotti di pasticceria e cioccolateria, sull'efficientamento energetico, sulla sostenibilità ambientale, ma anche sul ricorso alle opportunità legate al digitale. A tal proposito, Longarone Fiere potrebbe sperimentare sempre più l'implementazione dell'online negli appuntamenti che si susseguono durante l'anno. Le prossime fiere sono tutte confermate, ma l'emergenza Covid ha fatto emergere nuove potenzialità organizzative. Questo non significa distruggere il modello della fiera tradizionale. Anche durante il forum della gelateria, tra l'1 e il 2 dicembre, ci saranno spazi espositivi, per quanto ridotti. Entro metà settembre, Longarone Fiere dovrebbe ufficializzare il programma definitivo anche sulla base delle adesioni dei partecipanti. Sicuramente ci sarà spazio per la convention del gelato veneto, con la consegna di riconoscimenti e decani del settore, per la presentazione dei nuovi gusti di gelato che si sono fatti strada nonostante in 2020 in cui il settore ha patito a riduzioni di fatturato con punte del 40% e per il concorso Coppa d'Oro, in cui i gelatieri si confrontano sulle declinazioni di un gusto.